Eccoci qua, benvenuti. Allora, Osservatorio Galassia 5 Stelle, stiamo proseguendo con queste puntate che diventano sempre più interessanti, perché ci sono tante cose in evoluzione. È domenica pomeriggio, stiamo registrando, abbiamo sottratto Marco ed io, Nicola ai dolciumi palermitani. Domenica pomeriggio sottrarre Nicola, pensate che sacrificio che ha fatto per noi. Alcannolo, meraviglioso Siculo, ed è qui con noi a parlare. Io vorrei fare innanzitutto un recap di quello che è successo in settimana. La vicenda diventa sempre più interessante e più intricata. Tralasceremo la parte che riguarda l'aspetto giudiziario della vicenda, ma piuttosto cercheremo di fare un riepilogo di quello che è successo e se ci sono delle novità. E poi passeremo ad un vecchio tema che abbiamo annunciato più volte, ma poi in conseguenza del rincorrersi dei fatti che avevamo trascurato, che però non è meno importante. Ovvero, quello strano modo, sottolineo strano e poi vedremo per quale motivo, di fare recruiting all'interno del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle sappiamo che è nato con determinate caratteristiche, è nato per iniziative di Gio Roberto di Beppe Grillo, ma poi a un certo punto si è dovuto dotare di un personale politico che era destinato a partecipare alle elezioni e sarà molto interessante vedere come questo personale politico, di cui narriamo tutti i giorni le, come possiamo definirle, le avventure, e sono volutamente sarcastico, di tutti i giorni narriamo le avventure. Oggi, tra l'altro, domenica, hanno pubblicato un paio, fra cui l'ex capo politico e attuale ministro degli esseri si è lanciato nel tradizionale post che prima non gli apparteneva riguardanti i gattini, non so se l'avete visto. In visita in Algeria ha fotografato con questo spirito, come dire, così umano, così delicato, così dolce, un gattino che si è avvicinato a delle guardie all'ambasciata algerina. Siamo a questo livello, il ministro degli esseri che si occupa di queste cose. È tutta propaganda, così va il mondo. Allora, facciamo innanzitutto, Nicola e Marco, un recap di questa settimana. Che cosa è successo? C'è qualche novità? E se non ci sono novità, cerchiamo di tessere le fila di questa inchiesta che diventa sempre più interessante. Chi parte? Lascio la parola a Marco. Va bene. Allora, secondo me la cosa interessante di questa settimana riguardo la vicenda casaleggio Philip Morris è che sono i siti spariti. Facciamo un riepilogo. La trasmissione Le Iene ha scoperto che, cercando di indagare su quale fosse l'attività di casaleggio per Philip Morris per la cifra di quasi 2 milioni e mezzo di euro, ha scoperto alcuni siti legati o riconducibili a casaleggio associati. Riconducibili perché? Perché l'indirizzo IP di questi siti, cioè il codice, diciamo, l'indirizzo numerico che identifica la posizione in rete di questi siti, era in un gruppo di indirizzi consecutivi assegnati e riconducibili a casaleggio associati. A quegli indirizzi, a quel gruppo di indirizzi appartiene per esempio il sito di casaleggio associati, giarobertocasaleggio.com e altri siti della galassia, diciamo, dell'azienda milanese. Tra questi siti ce n'era uno che era quello della campagna Cambia Gesto di Philip Morris, che è interessante perché compariva la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in questo sito. La sindaca di Roma, credo, a settembre ha partecipato a una manifestazione di questa campagna. La domanda è, ma chi ha suggerito al sindaco Raggi o alla sindaca Raggi di partecipare a questa campagna? Sarebbe interessante capire come è avvenuto questo coinvolgimento dell'amministrazione comunale in questa campagna, perché è evidente una sovrapposizione di interessi, in questo caso, tra Philip Morris e il comune di Roma. Il secondo sito si chiama I Furiosi, si chiamava anzi I Furiosi, ed era un sito intestato a un collaboratore di Casaleggio Associati che aveva un grosso seguito in rete, aveva profili social molto seguiti e pubblicava contenuti relativi al tabacco riscaldato, alla nicotina, insomma. faceva una campagna, sembrava facesse campagna a favore di questo prodotto. Perché è interessante? Per due motivi. Questo l'ha scoperto Fabio Pietro Santi, che è un esperto di cyber security. È interessante per due motivi. Uno perché questo sito è sparito. Dopo l'inchiesta delle Iene e la trasmissione di martedì, il sito è stato oscurato, i profili social sono stati oscurati, non si trovano più in rete. Anche se Pietro Santi, come suo mestiere, è riuscito a recuperare buona parte di queste informazioni. Il secondo motivo è che se venisse fuori che questi siti e questo sito e questi profili social rientravano in qualche modo nella consulenza di Philip Morris a Casaleggio Associati, ci sarebbe un bel problema. Perché in Italia è vietato fare pubblicità diretta e indiretta ai prodotti derivati del tabacco. E quindi, insomma, questa è la novità principale di queste settimane. Si comincia un po' a scoprire quale potrebbe essere l'attività svolta da Casaleggio per Philip Morris e non sta venendo fuori nulla di edificante, diciamo, ancora se vuoi aggiungere qualcosa. Io ho una domanda per Canestrari, se la regia me lo consente. Ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Marco, tu hai visto questo sito, i Furiosi, e hai visto tutti i profili social adesso collegati. Alcuni di questi profili, Fabio Pietrosanti l'ha raccontato a me, al riformista, in un pezzo uscito ieri, alcuni erano dei profili social, diciamo, molto potenti, di successo, altri invece assolutamente no. Tu hai visto, diciamo, tutta questa organizzazione. Secondo te, tu ti occupi, insomma, di comunicazione in rete, di marketing in rete. Secondo te, tutta questa operazione commerciale in rete, evidentemente gestita da Casaleggio Associati, vale la parcella di 50.000 euro al mese che Philip Morris dava a Casaleggio Associati? Ovvero, quanto vale, secondo te, quell'attività commerciale in rete? Non sicuramente quella cifra. Diciamo che 2 milioni e mezzo di euro sono veramente tanti soldi. 2 milioni e mezzo sono veramente tanti soldi. E' lo staff di svariate persone. Quindi, se si tratta di solo quello che è emerso fino ad adesso, secondo me quella cifra è molto, molto alta. Leggevo che un marketer che si occupa di social network, di social media manager, diciamo, la parcella è intorno ai 2.000-3.000 per un'agenzia, 2.000-3.000 euro per un'agenzia. Quindi, insomma, per arrivare a 2 milioni e mezzo di euro sono tanti soldi. Io, personalmente, posso testimoniare che Casaleggio Associati, quando io lavoravo per loro come libero professionista, quindi da quando ho lasciato l'azienda per un ulteriore anno, tra il 2010 e il 2011, poi con un paio di attività nel 2013, mi pagava intorno ai 250 euro a video per un video di quarantina di minuti. Bene. Presidente, mi ritengo soddisfatto della risposta. Benissimo. Repore, una domanda a Canestrari. Allora, cerchiamo, vediamo se ho capito bene. C'è questo servizio delle Iene che indaga, indaga è la parola giusta, su questi siti. Immagino per capire se sono in qualche modo riconducibili a Casaleggio, comunque alla galassia a Casaleggio, giusto? Dopodiché i siti vanno down, vengono oscurati. Per cui non si può sapere se... È corretto? Ho capito bene? Sì, il sito ifuriosi.com viene oscurato, non tutti quanti i siti che hanno scoperto dei Iene. Ok, ok, ok. Va bene. Sì, adesso, ripeto, il discorso, il tentativo di non beccarci querele gratuitamente è sempre valido. Per cui quello che dico, ancora una volta, si tratta di un problema di opacità. c'è tanta nebbia intorno a questa storia, non si riesce a capire, Casaleggio, se ci ascolti, o qualcuno che ci ascolta, che più o meno avvicina a lui, vada in TV, vada dove vuole lui, vada su Rousseau, faccia un'intervista a Repubblica e Corriere, anche a noi, se vuole, e ci venga a raccontare come stanno i fatti, in totale trasparenza. Di modo che cada questo velo che c'è comunque, in cui i rapporti non sono ben chiari. Vogliamo semplicemente sapere quali sono i rapporti, come vengono regolati, e poi il mestiere di chi deve giudicare se questi rapporti sono lecidi, corretti, eticamente coerenti, eccetera, eccetera, non è certamente il nostro. Assolutamente. Io vorrei aggiungere una cosa di cui, insomma, si parla poco. In realtà, una delle pietre politiche dello scandalo è questa, che mentre tutti noi eravamo chiusi nel lockdown in primavera, e il covid faceva morire centinaia di persone, il covid, per chi se lo fosse dimenticato, è una malattia che attacca i polmoni, il governo Conte, maggioranza M5S, PD, rifiutava di un emendamento proposto da svariati deputati di svariati partiti in cui si chiedeva di innalzare la tassazione sul prodotto ICOS di Philip Morris per finanziare un fondo a favore di quei malati cronici che non possono essere ospedalizzati in un periodo di pandemia, perché a rischio. E questa è la vera pietra e lo scandalo. Il riformista l'ha contestato al governo e il governo in una nota che ha mandato al riformista non ha mai inteso rispondere a questo. Il titolo è molto semplice. Il governo Conte in piena pandemia ha scelto di proteggere gli interessi legittimi di una multinazionale del tabacco mettendo da parte gli interessi altrettanto legittimi di credo centinaia di migliaia di persone teniamoci bassi che avevano bisogno di assistenza e che non potevano accedere agli ospedali. Questo è un fatto perché ci racconta che la politica sanitaria del governo è stata questa questo dato di fatto non smentibile ovviamente rimane sempre sullo sfondo in questa querella e c'è un motivo perché ai lettori a tutti noi viene data in pasto ormai la vulgata che questa è una guerra del tabacco è una guerra commerciale sì certo è anche una guerra commerciale alla quale il governo ha partecipato schierandosi apertamente verso un prodotto e verso un'azienda piuttosto che un'altra ma soprattutto schierandosi non a favore di migliaia di italiani malati cronici e dicendo arrangiatevi questo è un fatto Nicola lascia che ti dica perché la materia fiscale è sempre molto scivolosa e molto complicata in questi giorni nel senso che è facile per uno che non è tecnico della materia e qualche volta anche i tecnici della materia rischiano di sbagliare è facile dire a seconda dei casi non alzo le tasse per non avere un problema di gettito perché poi c'è ci può essere intanto una traslazione del prezzo che incorpora una tassa maggiore oppure un minor gettito in quanto quel prodotto oppure quegli operatori che utilizzano quel prodotto ne acquistano di meno quindi è una materia estremamente complicata tanto è vero che l'argomento principale su cui adesso di cui si sta parlando in questa settimana che è la famosa storia dell'emendamento Fratoiani sulla patrimoniale presenta esattamente queste criticità noi probabilmente in settimana ne parleremo con Sandro Brusco e Dario Stevanato che di questi argomenti ne sanno molto soprattutto Dario Sandro anche ci ha scritto molto sulle patrimoniali Dario è addirittura un tecnico di altissimo profilo dell'Università di Trieste che si occupa proprio di effetti sul gettito quello su cui mi pare di aver capito parte del Movimento 5 Stelle quello più esposto su questa vicenda si pronuncia mi riferisco al famoso articolo 2017 della Castelli è che un aumento di gettito parliamo 2017 e non 2020 un aumento di tassazione avrebbe provocato un danno al settore e ai piccoli operatori vuoi ripetere lo dicessi l'altra volta però mi fa piacere se lo ribadiamo se lo ribadisci e se i nostri ascoltatori se ne ricordano qual è il livello di tassazione oggi in Italia e qual è il livello di tassazione invece in paesi che sono più o meno assimilabili all'Italia come dimensioni e come mercato certo allora intanto bisogna fare una premessa ci sono paesi come la Corea del Sud ovviamente e il Giappone dove il prodotto di tabacco riscaldato che è praticamente un monopolio Philip Morris ha una ha un successo straordinario il 60% di ICOS di Philip Morris viene venduto in questi due paesi in questi due paesi c'è una tassazione che mi pare vada dal 75 al 90% proprio perché è un mercato di successo ed è evidente che noi tassiamo sulla base di un mercato di successo e su una base di politica sanitaria perché noi tassiamo le cose fra virgolette che fanno male anche per questo motivo in Italia per esempio al contrario in Germania il tabacco riscaldato viene tassato pochissimo addirittura mi pare quasi niente perché perché è un mercato piccolissimo per cui se noi tassassimo un mercato di nicchia con in maniera molto forte allora sì avremmo come effetto quello che accennavi tu Costantino cioè ammazzi un'intera filiera in Italia il successo di Icos che non sta a me giudicare ovviamente perché non sono un esperto ce lo dicono i numeri per cui è un mercato in grandissima espansione peraltro che ha subito una serie di anche questo attraverso la pubblicità occulta fatta da questo sito di cui Marco parlava i Furiosi ha subito una pubblicità ingannevole e non non visibile diciamo occhio nudo vale a dire smettete di fumare con l'aiuto di Icos perché Icos non fa male a parte che noi dovremmo ricordare una cosa Philip Morris non è che vende solo Icos Philip Morris è Malboro quindi vendono sigarette tradizionali e sigarette di ultima generazione il tabacco riscaldato per cui insomma chiariamo questo fatto certo in Italia questo mercato è in grandissima espansione e siccome il Ministero della Sanità con i documenti che per primo ha pubblicato Report e poi abbiamo pubblicato anche noi al Riformista si evidenzia come il Ministero della Salute fin dal 2018 diceva guardate ragazzi con i dati che ci dà Philip Morris noi non possiamo assolutamente dire che Icos fa più male o meno male di sicuro fa male per cui non può essere usato come un prodotto per smettere di fumare assolutamente no come invece spesso e volentieri non Philip Morris ma una certa pubblicità faceva capire faceva intendere di conseguenza la tassazione fino al 2018 era e questo è un fatto al 50% delle accise l'abbiamo l'anno il governo conte 1 e poi conte 2 l'ha ulteriormente dimezzata al 25 ma ripeto lo scandalo politico secondo me o perlomeno il dato politico sul quale riflettere è essenzialmente questo che in un momento di emergenza sanitaria ed emergenza economica il governo non si ponga il problema di chi ha gli ospedali non può neanche avvicinarsi perché è malato e quindi ha un sistema immunitario molto debole e quindi fa una scelta e su questa scelta che secondo me io sono un ingenuo in questo è su questa scelta che poi noi semplici cittadini dovremmo decidere di votare un partito o una coalizione o un'altra non sul teatrino politico chi sta con chi che sinceramente ha veramente sciroppato i cabbasisi sicuramente è curioso e incoerente rispetto a tutta la storia del Movimento 5 Stelle a proposito di tassazione di multinazionali tassazione di tassazione dei vari ambiti diciamo così di consumo del territorio di messa a rischio della salute eccetera eccetera questa scelta nel Movimento 5 Stelle è totalmente incoerente ti dirò di più io non sono certo un esperto ma mi pongo una domanda gli aiuti evidenti che il governo Conte 1 e Conte 2 hanno dato a Philip Morris possono essere definiti aiuti di Stato? E questa è anche la domanda perché è evidente che c'è stato poi un doubt des legittimo politicamente legittimo per il quale Philip Morris ha investito molti soldi in Italia per esempio aprendo un un call center a Taranto no? Benissimo anche questa è una domanda che io mi pongo da 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 semplice cittadino ma il futuro di questo paese è nei call center o è nella progettazione nella ricerca nell'innovazione perché quello che poi ci viene ridato in termini occupazionali da Philip Morris come investitore è questo è anche questo ovviamente ma è questo e questo governo di Netti ce lo magnifica sui media come un grande successo 40 ragazzi in un call center è la suddemaritalizzazione di questo paese è il fallimento di questo paese io se posso aggiungo un'ultima considerazione su questo tema e cioè riprendendo la puntata sul su come funzionano le lobby che Liberi oltre ha pubblicato in settimana molto interessante consiglio a tutti di andarla a vedere perché è veramente oltre che essere chiarissima è proprio veramente molto molto interessante il punto lo ribadisco sta nella trasparenza del processo io posso prendere qualsiasi decisione sulla tassazione di questo o di quel prodotto giusta o sbagliata che sia posso anche togliere completamente le tasse al tabacco riscaldato se per qualsiasi motivo ritengo sia la cosa giusta da fare ma per decisioni così importanti servono ulteriori gradi di trasparenza il problema qua è che noi non sappiamo se questa decisione dipenda dal fatto che Philip Morris sia un cliente di casaleggi associati il cui presidente è anche il proprietario del partito di governo questo è il problema oltre a quello che diceva Nicola la trasparenza del processo decisionale il presidente Conte nella risposta al riformista dice di non essersi occupato della vicenda ma di cosa stiamo parlando la politica sanitaria non è a pannaggio della presidenza del consiglio come giustamente faceva notare Nicola nella sua replica questo è veramente molto grave ripeto il problema è il conflitto di interessi la mancanza di trasparenza nel processo decisionale di questa specifica decisione il problema è che ci sono dei fatti il fatto numero uno è che Philip Morris sia cliente di casaleggi associati il fatto numero due è che il presidente di casaleggi associati è anche il proprietario del partito di governo e il fatto numero tre è che c'è stata questa riduzione il problema è questo politicamente dal punto di vista del processo esatto io vorrei affrontare la questione anche Costantino se mi permetti da un altro punto di vista credo che non ci sia un caso in un paese occidentale qual è ancora per poco l'Italia in cui il partito di maggioranza relativa che ha preso il 32 il 33 per cento non cinque anni fa ma due anni fa due anni e mezzo fa oggi costringe un intero paese a seguirne le gesta interne che a loro volta sono veramente poco chiare perché non esplicitate mi spiego il movimento è evidentemente un partito spappolato e al suo interno si combatte una guerra quasi ancora senza esclusione di colpi ora è evidente che questo spappolamento politico che interessa il movimento poi riguarda il governo del nostro paese le sue scelte io vedo una deriva assai pericolosa in questo perché evidentemente le convulsioni del movimento si ripercuotono sul sul governo e a sua volta le convulsioni del governo stanno iniziando a far alzare qualche qualche sopracciglio in Europa dove si stanno accorgendo che tutti gli scostamenti di bilancio e tutti i debiti che noi stiamo facendo in piena emergenza sanitaria hanno riguardato non solo non hanno riguardato riforme strutturali non hanno riguardato alle fasce veramente più deboli della della popolazione ma che è quella che è stata chiamata la politica del bonus quindi una politica clientelare ora ci aspettano veramente mesi duri se vi ricordate noi lo dicevamo una settimana fa cioè la foto dell'ondata la prima la seconda speriamo che non ci sia la terza del del covid nasconde in realtà l'ondata di una crisi economica globale che sarà travolgente in questo senso passatemi di questa questa specie di foto che io vedo chiarissima è l'ondata della crisi economica che poi farà vedere il fallimento di questa esperienza di governo in questi mesi e sarà assai pericolosa io vi posso raccontare a proposito di come viene gestita questa emergenza e questa politica del bonus vi posso raccontare una cosa io sto raccogliendo una serie di testimonianze di imprenditori che hanno attività commerciali nel campo della ristorazione che hanno una ristorazione stagionale quindi 6-7 mesi l'anno che ricevono dal governo ogni mese decine di migliaia di euro con la propria attività chiusa ma non per il covid chiusa perché è stagionale capite bene che noi stiamo sperperando una valanga di soldi ho raccolto la testimonianza di uno di questi ristoratori che riceve una telefonata dal suo commercialista e gli dice guarda non ti spaventare che questo mese vedi nel conto dell'azienda 37.000 euro è lo Stato che ti paga e quello gli dice scusatemi ma io sono chiuso io a novembre sono chiuso sono chiuso da 30 anni perché lavoro in un luogo di villeggiatura che me lo permette e quello gli dice no no ma il governo ti paga ugualmente capite bene che è una follia poi magari la prossima settimana me ne racconto un'altra di queste storie indicative che riguarda invece il vaccino il vaccino influenzale che è il trovabile io tremo all'idea di come verrà gestito la somministrazione la gestione di un paese di 60 milioni di persone quindi cioè quello che noi vediamo perché noi ci occupiamo in questo momento ancora di Movimento 5 Stelle perché occuparsi della guerra interna al Movimento 5 Stelle significa anche occuparsi di quello che succederà di lì a poco in Parlamento nel governo e via via e via via salire assolutamente sì ricordo beh innanzitutto che noi praticamente abbiamo cominciato a criticare le mosso del governo e quindi dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle al governo fino addirittura da febbraio quando era chiaro ed evidente che la pandemia sarebbe arrivata in Italia e noi avevamo il presidente che consigliano e il suo ministro più in vista che è appunto ancora una volta Luigi Di Maio che dicevano che l'Italia aveva già fatto tutto quello che era giusto fare primi al mondo noi non avremmo avuto nessun problema questo noi cominciamo a criticarlo in febbraio quantomeno per la scarsa cautela di affermazioni così ottimistiche non ti dico sulle misure prese di sostegno di sussidio eccetera eccetera anche quelle fatte come raccontavi tu in modo a dir poco approssimativo e sbagliato aggiungo soltanto una cosa anzi due ma velocissimamente perché voglio passare poi con voi all'altro argomento la discussione che si sta tenendo in questi giorni a proposito della riforma del MES è secondo me paradigmatica cioè un partito che in maggioranza relativa di governo maggioranza relativa in Parlamento che è totalmente spaccato si sta dissolvendo in mille rivoli con tante posizioni diverse che non sono neanche così semplicemente riassumibili in due posizioni ovvero quella governativa e quella un pochino più baricadera ma ci sono tante posizioni con sfumature diverse che si trova ad affrontare un passaggio che è fondamentale fondamentale per quello che sarà il dopo pandemia ovvero il 2021 allora arrivare in Europa con un governo così vergognoso non volevo trovare un altro tema cioè in una posizione così di tale debolezza incoerenza vergogna inconsistenza delle posizioni inconsistenza delle critiche ci espone veramente a una situazione che potrebbe essere di non ritorno ricordo ancora che quando ci fu la discussione per il recovery fund in Germania si diceva dicevano questa concessa da Angela Merkel è l'ultima occasione per l'Italia se anche questa occasione dovesse essere persa beh le prospettive future di questo paese saranno veramente disastrose noi arriviamo ad affrontare una situazione di emergenza così grande così complicata così nella peggiore delle condizioni possibili ovvero con un governo composto nella sua gran parte di gente che non sa fare 2 più 2 e non è una battuta quella del 2 più 2 ma è una cosa che si testimonia tutti i giorni attraverso i loro tweet e i loro post su facebook questa è la situazione è una situazione italiana purtroppo adesso vedremo che cosa succederà in settimana dopodiché vedremo insomma non lo so volevo passare con voi all'altro argomento che mi sta particolarmente a cuore dove credo che ci siano anche un paio di chicche un paio di aneddoti che volete raccontare cioè come si diventa non tanto parlamentare perché abbiamo detto delle parlamentare ma come si entra come si entrava nel Movimento 5 Stelle quale percorso di selezione bisognava superare perché ci sono persone che diventano ministri degli esteri e vanno in giro nel limousine con tanto di autista e scorta dopo aver preso 187 voti su un sito privato per esempio dunque la selezione della classe dirigente del Movimento 5 Stelle ha subito sempre delle evoluzioni per così dire ma è stata sempre basata su un fatto cioè sulla capacità di profilare gli iscritti del Movimento 5 Stelle da parte del casaleggio prima veniva in maniera molto rudimentale attraverso i commenti sul blog attraverso il tracciamento delle attività che venivano a cui a cui si partecipava organizzate prima da casaleggio associati poi dall'associazione Russo adesso si sta piano piano raffinando ma bisogna sempre ricordare un fatto e cioè che i casaleggio hanno sempre avuto delle sentinelle sul territorio ricordo un episodio quello di che ha riguardato Giovanni Favia quando un giorno il blog di Beppe Grillo pubblica una chat anonima tra all'epoca consiglieri regionali in cui si parlava male di casaleggio in realtà la chat non era anonima i nomi casaleggio li conosceva ma li aveva pubblicati in maniera anonima per far capire a tutti che lui aveva sentinelle appunto sul territorio che tenevano d'occhio la situazione i due fatti i due aneddoti che volevo raccontarti erano questi uno riguarda la selezione della sindaca della candidata sindaca di Roma Virginia Raggi quando ci fu l'elezione sul blog delle stelle sul blog di Beppe Grillo all'epoca comunque sulla piattaforma gestita da casaleggio come avviene in questi casi c'era la necessità di selezionare quale fosse quale sarebbe stato il candidato sindaco per la città di Roma era una una decisione molto importante noi abbiamo documentato nel nostro libro Supernova io e Nicola che fu casaleggio padre a chiamare Virginia Raggi qualche settimana prima proponendole di fare la candidata sindaco di Roma però c'era la necessità di fare questo passaggio sulla piattaforma l'avversario interno in questa competizione era Daniele Frongia che era un candidato abbastanza forte nel movimento romano era molto seguito aveva insomma svolto il suo mandato in maniera accettabile precedentemente comunque accettabile per quanto riguarda come dire i parametri del Movimento 5 Stelle aveva una buona carriera di attivista nel movimento romano e quindi era in una buona posizione per poter fare il candidato sindaco tant'è che durante la votazione a votazione in corso un suo collaboratore riceve una serie di telefonate da un dipendente suo amico di casaleggio associati che gli comunica guarda che la tua elezione sta andando molto bene alla fine però vince Virginia Raggi questo significa due cose significa che uno durante le votazioni gli amministratori del sistema possono verificarne l'andamento e già questo è un problema dal punto di vista del processo democratico secondo a quanto pare possono anche determinarne le sorti perché questo dipendente di casaleggio associati dava per certa la vittoria di Frongia fino a pochissimi minuti prima la chiusura del voto un secondo episodio riguarda me io nel 2014 mi candido alle parlamentarie europee che sarebbero dovute avvenire anzi sono avvenute in due in due distinte votazioni una di preselezione e una di selezione succede che però tra il primo e il secondo turno prima che vengano pubblicati i risultati viene pubblicato un post sul blog di Beppe Grillo che ha firma di Gianroberto Casaleggio che esclude chiunque fosse stato dipendente o collaboratore di Casaleggio associati mi fu spiegato in seguito da un mio ex collega che quel provvedimento non riguardava me nello specifico non ero io il target di quel provvedimento ma era un'altra persona nelle mie condizioni un altro ex collega che si era candidato però anche qua siamo di fronte a una scelta da parte di Casaleggio di influenzare l'esito di questa selezione io posso testimonare che è stato che è accaduto in altre occasioni agli albori del Movimento 5 Stelle quando bisognava selezionare candidati alle regionali o alle comunali Casaleggio interveniva molto spesso però un paio di settimane fa c'è stata un'ulteriore evoluzione dicevo prima che è importante l'aspetto di profilazione dei candidati e degli attivisti se voi andate sul blog delle stelle guardando nella sezione commenti molto spesso gli autori dei commenti hanno una piccola iconcina a fianco chi ce n'ha una, due, tre, quattro, cinque ecco quelle iconcine riguardano indicano che quella persona ha partecipato a una racconta fondi a un evento a un'attività organizzata dall'associazione Russo è un iscritto alla piattaforma Russo e così via ora tutte queste informazioni insieme determinano una profilazione cioè si fa capire chi è quella persona che cosa se ne fa Davide Casaleggio di questi dati ce l'ha spiegato appunto due settimane fa quando ha presentato il piano 2021 dell'associazione Russo ha fatto molto discutere la funzione mi fido una sorta di mi piace attraverso il quale gli iscritti alla piattaforma Russo possono fare un endorsement pubblico o privato ad altre persone all'interno della comunità questo ha fatto discutere molto perché è emersa un fatto che a noi e a chi ci segue era molto chiaro perché lo diciamo da tempo ma che la corrente di Alessandro Di Battista all'interno della base del Movimento 5 Stelle è predominante in questo momento e quindi ovviamente ha un po' anticipato l'esito delle votazioni future degli stati generali e quindi questa cosa ha fatto storcere il naso a Roma perché un ulteriore dimostrazione che Casaleggio ha sempre due o tre passi avanti rispetto al Movimento Romano però in quella in quella riunione Casaleggio ha presentato una un'altra funzione un'altra un'altra insomma novità del profilo attivista cioè la pagina personale degli attivisti del Movimento 5 Stelle degli iscritti alla piattaforma Russo che è il sistema dei meriti il sistema dei meriti sarà una un ranking che Casaleggio spiega servirà per far emergere chi crea valore per il Movimento 5 Stelle che darà priorità anche nella selezione delle candidature future alle persone che avranno più meriti nel Movimento 5 Stelle il problema qual è? Che questi criteri verranno scelti da Casaleggio e quindi ovviamente questo determina un ulteriore passo in avanti e un ulteriore aumento dell'influenza di Lave dei Casele nel Movimento 5 Stelle perché gestendo la piattaforma gestendo selezionando decidendo lui quali siano i criteri e conoscendo a priori quali sono i profili dei candidati e dei possibili candidati perché li ha profilati per tutti questi anni potrà facilmente determinare l'esito delle 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 prossime selezioni c'è un episodio negli Stati Generali c'era ci sono state 30 persone candidate selezionate per partecipare per parlare agli Stati Generali ecco Di Maio per esempio per questo sistema dei meriti era a pagina 27 dell'elenco eppure è riuscito ad entrare diciamo perché ovviamente lo status di ministro gli dà una visibilità tale per cui anche in questo caso anche nonostante fosse a pagina 27 le persone sono andate a cercarlo non gli si poteva togliere il microfono insomma non gli si poteva togliere il microfono però in questo modo Casaleggio avrà la possibilità di controbilanciare diciamo la visibilità delle persone che hanno ruoli istituzionali in questo modo è chiaro che questo insomma è evidente che Davide Casaleggio si sta preparando già alla selezione dei prossimi candidati e pensa ai prossimi dieci anni anche perché sta annunciato un'ulteriore novità di cui se vuoi parliamo fra un attimo se invece adesso vuoi continuare vuoi chiedermi qualche approfondimento su questo tema però c'è un'altra cosa veramente interessante di cui vorrei parlare velocissimamente stai dicendo che la democrazia diretta è un mito e mi viene la mia domanda ovviamente era retorica ma l'altra cosa perché sentivo adesso non ricordo chi era sempre a proposito di questa discussione infinita e noiosissima che non riguarda il mess riguarda un'altra cosa che è la vicenda di Bari cioè il fatto perché poi insomma ogni settimana ce n'è una questa settimana c'è stata anche la storia dell'ingresso più o meno avvenuto in giunta in Puglia da parte del Movimento 5 Stelle che in realtà durante l'elezione aveva fatto un'opposizione durissima contro Michele Emiliano ho sentito dire un'esponente che mi pare sia quella che sia una delle quattro che sia d'accordo sull'ingresso in giunta regionale che diceva che comunque il voto poi cioè se loro devono accettare l'offerta che è stata fatta dal presidente Emiliano debba essere poi vagliata attraverso il voto diretto popolare da parte degli iscritti secondo voi incide anche su queste scelte può incidere sempre attraverso questi meccanismi di opacità anche casaleggio su queste scelte oppure soltanto un fatto che riguarda la selezione diciamo così del personale a lui più gradito no secondo me no secondo me casaleggio fa campagna tutti i giorni per le proprie posizioni di qualunque tipo lui è il proprietario del portale di comunicazione del Movimento 5 Stelle che è il blog delle stelle il blog delle stelle è intestato all'associazione Russo ed è l'organo di comunicazione del Movimento 5 Stelle ma anche dell'associazione Russo quindi quando Crimi dice è scandaloso che Davide Casaleggio pubblichi decisioni o pubblichi articoli sul blog delle stelle senza consultare il movimento sbaglia perché ha tutto il diritto di farlo perché hanno firmato un accordo con Casaleggio o meglio hanno messo nello statuto che il portale è di proprietà dell'associazione Russo quindi l'associazione Russo di fatto lo dà incomodato al Movimento 5 Stelle il portale per le proprie comunicazioni quindi cosa accade che Casaleggio se andate a vedere lui praticamente tutti i giorni pubblica contenuti che spaziano da interviste che conduce lo stesso Casaleggio a questo o quell'esperto o presunto esperto di questo o quell'argomento democrazia diretta dei diritti digitali insomma eccetera eccetera spessissimo pubblica brani tratti dai libri di suo padre altre volte addirittura recentemente ha pubblicato una sorta di panflet che ricorda quali sarebbero i principi del Movimento 5 Stelle e ovviamente sono tutte cose che fanno molto piacere alla corrente di Di Battista con cui Casaleggio ha un nuovo accordo insomma Casaleggio sta conducendo da settimane e da mesi una campagna di fatto elettorale interna attraverso lo stesso organo di comunicazione del Movimento 5 Stelle che indubbiamente va a influenzare l'esito dei voti io ho partecipato mi sono infiltrato alla presentazione infiltrato per modo dire perché poi ho messo il mio nome e il cognome quindi potrebbe benissimo vedere che c'ero però io ho partecipato alla presentazione su Zoom del piano 2021 ho letto i commenti che arrivavano nella chat di Zoom mentre Davide Casaleggio parlava vi posso assicurare che c'è un fatto che di cui nessuno sta parlando e che gli attivisti del Movimento 5 Stelle se prima erano attivisti e poi erano diventati i fan delle pagine Facebook dei parlamentari di Di Battista di Di Maio addirittura di Stefano e così via adesso sono i fan di Davide Casaleggio ve lo posso garantire ma questo è evidente anche leggendo alcuni dei commenti che compaiono sul Blog delle Stelle questa cosa qua di questa cosa qua i parlamentari si sono chiaramente resi conto è per questo che è cominciato questo scontro questa guerriglia a bassa intensità tra Roma e Milano accidenti quindi io non ho possibilità di essere eletto il prossimo giro con il Movimento 5 Stelle mi ricordi no Costa mi dispiace so che ci tenevi ma temo di no vai Nicola poi dovresti vincere dovresti vincere la concorrenza di Luciano Capone ah beh no con Luciano non posso competere no no sotto nessun aspetto no no assolutamente no io faccio solo una battuta allora che i partiti contemporanei e non solo in Italia siano diciamo vecchi che non abbiano saputo gestire l'innovazione tecnologica che abbiano perso contatto con la realtà e che siano diventati delle delle caste questo lo sappiamo tutti il punto è che noi dobbiamo fare i complimenti però ai casaleggio padre e figlio perché loro hanno saputo intercettare un bisogno che era quello dei cittadini di essere ascoltati di contare di più e tutto il resto che poi era una finzione sì che è una cosa pericolosa anche l'utilizzo di certi strumenti di avanguardia applicati alla gestione di un partito o peggio della cosa pubblica per cui io e altri centomila sciammannati dobbiamo secondo di Battista decidere chi deve andare a capo dell'Eni sì è folle sbagliato e pericoloso però loro hanno risposto a una domanda potente e prepotente che veniva su e questo altri partiti non l'hanno fatto perché mentre prima il successo l'hanno detto tutti prima culturale mediatico di Silvio Berlusconi che poi lo ha proiettato velocemente nel lagone politico quando lui ha voluto sono state le sue televisioni le sue aziende che si occupavano di raccolta pubblicitaria e tutto il resto e ci volevano degli investimenti spaventosi come quelli appunto che Silvio Berlusconi ha messo in campo in realtà veramente va ammesso che i casaleggio con molti 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 meno soldi hanno tirato su un sistema ma c'è del genio senza dubbio c'è del genio senza dubbio c'è del genio c'è del genio ora scusate la la cattiveria ma di fronte a questa potenza ieri noi abbiamo visto su twitter su facebook una una riunione credo su zoom il cui titolo era il cantiere della sinistra nel cantiere della sinistra a parte che c'era un'età sconvolgentemente alta ma c'era D'Alema nel cantiere della sinistra cioè ma questi a chi diavolo stanno parlando per cui chiunque vincerà la battaglia dentro dentro il Movimento 5 Stelle ha ragione Marco comunque sarà una battaglia di attuale è di è nuova comunque rispetto alla alla pochezza alle ragnatele che dall'altra parte invece ci vengono mostrate questa è una cosa molto preoccupante poi è evidente e mi fermo che il futuro partito di casaleggio che secondo me si chiamerà Movimento 5 Stelle alla fine perché loro si terranno il simbolo sarà e questo a me fa molto male insomma sarà poi un partito trampiano ora io vi faccio un esempio un esempio banalissimo voi immaginate se Nicola Zingaretti segretario del partito democratico facesse soldi con le attività del partito democratico o facesse operazioni di lobbying per una sua azienda privata che porta il suo nome utilizzando il fatto che lui è segretario del partito democratico ma vi immaginate che cosa succederebbe ecco questa è questa è la situazione che fotografa la la il sistema casaleggio e il bello è che se voi andate a leggere fatelo andate a leggere il piano per l'Italia degli anni a venire stilato dall'associazione Gianroberto Casaleggio vedrete i nomi di chi ha dato un contributo a questo piano andate e vedete quello è il sistema casaleggio che abbiamo provato a raccontare io e Marco nel nostro libro ci sono nomi anche di grande elevatura ma ci sono anche nomi di grandi professionisti del giornalismo italiano che evidentemente noi gliene può fregare meno che abbiamo un conflitto di interessi spaventoso eppure è così guardate che il conflitto di interessi non è l'unico problema qua tra l'altro noi quello che stiamo raccontando in questi appuntamenti ormai settimanali è un nuovo metodo di raccolta e gestione del consenso ed è importante capirlo questo nuovo metodo di raccolta e gestione del consenso perché sfugge a tutte quelle contromisure che le democrazie occidentali hanno elaborato nel corso dei secoli dei decenni dei secoli soprattutto del secolo scorso sfugge a ogni controllo a ogni controllo democratico a ogni capacità di leggere le dinamiche interne ed esterne ai partiti per questo noi stiamo parlando della questione Philip Morris così tanto in questi giorni guardate uno degli errori più gravi che si possa fare con il Movimento 5 Stelle è sottovalutarne l'efficacia della struttura perché la struttura che ha messo in piedi Davide Casaleggio è estremamente efficace estremamente efficace per i propri scopi un'ultima novità di cui ha parlato sempre in quella solita riunione su Zoom del piano 2021 dell'associazione Rousseau è una cosa che ha chiamato gli ambasciatori della democrazia diretta o qualcosa del genere insomma una cosa di questo tipo di base di cosa si tratta Casaleggio l'associazione Rousseau comincerà a formare attraverso lezioni vere e proprie a gruppi di 150 persone c'è tante persone un esercito di attivisti che risponderanno soltanto a lui perché saranno formati da lui sulla base di valori che lui sostiene la democrazia di ambasciatori della democrazia diretta del metodo dell'associazione Rousseau e così via attenzione queste sono risorse a parte che sono selezionate queste persone sulla base dei Mifido di qui sopra quelli che avevano fatto emergere la posizione pro di Battista all'interno del partito della base queste persone che saranno formate e a cui sarà richiesto di fare propaganda alle proprie cause da parte di Casaleggio sono scelte tra le persone fidate tra le persone della corrente di Battista di fatto questo vuol dire che sono persone che le cui risorse anche il tempo che dedicano all'attivismo politico sono sottratte al movimento 5 stelle vero e proprio quindi nel momento in cui ci sarà da fare campagna elettorale volantinaggio qualsiasi attività online o offline la stessa persona si vedrà porre una richiesta da associazione russo che l'ha formato gli ha dato strumenti di attivismo buoni o cattivi che siano e Vito Crimi capito? Vito Crimi che cos'ha da offrire a queste persone in che modo qual è la relazione che si è stabilita tra Vito Crimi e questi attivisti e invece qual è la relazione che Davide Casaleggio sta pazientemente e costantemente costruendo con la base del partito all'insaputa o comunque nella incapacità di contrastare questa attività che Casaleggio porta avanti da parte del partito di Roma qui siamo di fronte a una una divisione una dicotomia nel baricentro del potere tra quello che succede a Roma e quello che succede a Milano soltanto che quello che succede a Milano è completamente al di fuori da ogni controllo democratico che la nostra Costituzione le nostre leggi hanno previsto e quindi è impossibile da contrastare ed è molto difficile da capire certo io mi fermerei qua che è già molto interessante e ascoltandovi in quest'ultima parte mi viene in mente quello che potrebbe essere il tema della prossima puntata che adesso vi propongo secondo me potrebbe essere interessante capire come si forma l'offerta politica del Movimento 5 Stelle sin dalle sue origini ovvero da quando cominciano le piazze di Beppe Grillo e soprattutto se questa offerta politica cioè il livello di elasticità e sensibilità di questa offerta politica agli umori del momento cioè perché adesso la faccio semplice questa è una domanda che ho fatto anche ad Alessandro di Battista qualche settimana fa quando abbiamo fatto una call forse questa non l'avevo ancora raccontata a cui mi ha risposto poi in un modo che vi dirò la prossima volta ovvero il reddito di cittadinanza nasce perché perché c'è veramente un afflato verso c'è la volontà di sconfiggere la povertà o piuttosto perché una misura che è facilmente vendibile questo un po' per fare un esempio di quello che ho in mente e di cui magari se voi siete d'accordo Nicola e Marco potremmo parlare la prossima volta anche perché questo potrebbe questo anche essere molto interessante in l'ottica del futuro del Movimento 5 Stelle con le spaccature che ci sono Marco diceva c'è un Movimento 5 Stelle Roma in questo momento che è una cosa un Movimento 5 Stelle come dire in ristrutturazione oppure in riformulazione della propria offerta che sta avvenendo tramite tramite la vedica di saleggio a Milano ed è molto interessante questo per le prospettive future cioè quale Movimento ci dovremmo trovare ad affrontare in un prossimo futuro sì sì ed è una cosa in stretta correlazione e ne parleremo la prossima volta con il rapporto che i Casaleggio hanno sempre avuto con la legge nel senso con il concetto di norme comunemente accettate che servono per governare il vivere civile sarà interessante l'argomento la prossima settimana va Nicola io vi lascio con questo con questa cosa un po' folle per capire certe dinamiche a livello proprio psicologico basterebbe vedere la prima puntata della terza stagione della Casa di Carta che inizia con un'operazione mediatica che è l'introduzione a una rapina clamorosamente difficile e geniale io non lo racconto ovviamente per non togliere per non spoilerare la Casa di Carta ma per intenderci tutti noi abbiamo almeno una volta nella vita sognato di vedere Robin Hood e una volta nella vita almeno abbiamo tifato per Robin Hood la questione è che per diventare Robin Hood in un mondo così complesso bisogna davvero essere degli asceti ma quando hai una massa profondamente ignorante di quali sono di qual è la complessità del mondo in cui viviamo è evidente che il romanticismo di sentirsi parte di un movimento che per esempio si chiama Robin Hood è enormemente attrattiva questo inganno questo inganno gigantesco inganno nasce dalla genialità di Gian Roberto ma nasce anche da un fallimento epocale clamoroso di quello che è stata la sinistra post comunista d'Italia che aveva dato con milioni di errori aveva dato in alcuni momenti prova di essere capace di gestire il rapporto con lo Stato da classe dirigente e il rapporto con le masse quell'esperimento lì poi ovviamente è venuto meno non poteva che venire meno dopo il crollo del muro di Berlino e da allora noi abbiamo visto la raccolta del consenso per esempio di Forza Italia dove nelle periferie delle città clamoroso nelle cinture industriali o ex industriali come in gioco di palazzo nel 96 si riuscì a portare a Palazzo Chigi un esponente quello sì dell'establishment italiano in questo Silvio Berlusconi era una sorta di Trump in quegli anni ma ancora una volta come dice Marco non ci siamo posti il problema della raccolta del consenso perché perché fondamentalmente la sinistra post comunista di questo paese di comunicazione non capisce una mazza perché ha sempre avuto questa spocchia intellettuale di chiamo il direttore per fare o non uscire o fare o non fare uscire un pezzo e in questo casaleggio continuo a dire ha sparigliato tutto quanto ha fatto saltare il tavolo fare saltare il tavolo e lo ricollego appunto al movimento Robin Hood o alla casa di carta a quelli che non ne possono davvero più non può che essere in un certo senso anche un'esplosione naturale naturale e giusta di di masse intere da Washington a Roma ma poi ci vuole dell'altro ci vuole davvero dell'altro ecco perché io non mi azzardo ripeto a parlare di MEF o di di MES scusami o di o di tassazione su un prodotto però c'è un punto che quelle capacità che Canestrari diceva sono tutte da una parte non sono e non le troviamo dall'altra parte e questo significa che noi abbiamo di fronte dei concorrenti di cui uno parte sempre avvantaggiato e l'altro parte sempre invece indietro ma per colpe sue per colpe sue sia all'esterno che all'interno del movimento tra l'altro sia all'esterno che all'interno esatto con gioia io e Marco Canestrari siamo degli outsider e se voi andate a vedere come le raccontano come raccontano il Movimento 5 Stelle i grandi giornali che hanno bravissimi colleghi ma sono scarsi loro che non lo riescono a raccontare no semplicemente è perché anche i media mainstream non hanno i codici non riescono a capire i codici di questa avventura che non sono solo che non riguarda solo l'avventura del Movimento 5 Stelle ma anche l'avventura trampiana l'avventura della Brexit non la capiscono e quindi non la sanno raccontare e fanno una cosa io questo la devo dire perché non ce la faccio più a non dirla e fanno una cosa volgare una cosa travagliesca cioè quella di prendere in giro le gaffe del Ministro degli Esteri o quelle di Toninelli o quelle degli altri che va bene in rete se lo fa se lo facciamo persone che non abbiamo responsabilità io io lo faccio regolarmente ma va benissimo ma avere preso in giro questa avventura ci ha fatto chiudere le sinapsi e ci ha fatto perdere tempo questa avventura va studiata perché prodromica al mondo che verrà e ai problemi che veramente sono giganteschi quelli che diceva Marco raccolta del consenso e gestione del consenso assolutamente e non è che noi dobbiamo sperare adesso questi si spaccano e buonanotte nel 2020 abbiamo avuto il Covid la fine del Movimento 5 Stelle dal 2021 ritorna tutto come prima ma non è che prima era rosa e fiori e quindi ha ragione Marco quando dice Davide ragiona a dieci anni sì è vero ragiona a dieci anni e in questo va detto una cosa è molto più bravo a ragionare a lunga gittata Davide Casaleggio di qualsiasi politico che noi oggi abbiamo davanti agli occhi anche perché e poi veramente si può chiudere all'estero a livello internazionale le alternative che stanno emergendo non sono per niente incoraggianti e il modello Casaleggio viene è già stato esportato allora c'è un'intervista ad Aaron Banks sul Guardian di qualche qualche mese fa in cui lui esplicitamente dice che il modello su cui hanno costruito il Brexit Party che adesso sta subendo gli stanno dando un rebranding e vedremo come andrà a finire è il modello Casaleggio e lo cita proprio cioè un partito costruito strutturato come un'azienda per essere gestito da poche persone in grado di determinarne le politiche le candidature e così via dall'altra parte dell'oceano c'è Alexandria Ocasio-Cortez che dal punto di vista della comunicazione utilizza tutti i metodi che hanno utilizzato il Casaleggio tutti dal primo all'ultimo dal dal make up su Instagram all'interrogazione violenta contro Zuckerberg che per carità non è un santo ovviamente però l'ha fatto durante una un'audizione in cui l'argomento era tutt'altro perché perché quel tipo di domande fatte a quella persona in quel contesto avrebbero funzionato e di fatto hanno funzionato in rete ma non c'entravano nulla con l'argomento di cui si parlava in quella commissione e questo non è per nulla incoraggiante esatto esattamente così va bene grazie ragazzi io mi fermerei qui mi sembra mi sembra ottimo e poi insomma il tema della prossima settimana l'abbiamo già introdotto e sarà estremamente estremamente interessante grazie Nicola grazie Marco un bacione a tutti grazie a voi come sempre grazie saluta il gatto dietro di te ah c'è anche sì sì ce ne sono due qui i gatti ok ah il gatto tra l'altro anche oggi Luigi dicevamo prima appunto sono anch'io con il gatto adesso mi presenterò come futuro ministro degli esteri boom ragazzi ciao un abbraccio ciao grazie a presto ciao ciao ciao